C'è ancora un po' di amarezza nell'aria in questo lunedì e non potrà essere altrimenti per le prossime settimane, anzi per i prossimi giorni, perché questo fine settimana poi la Juve non scenderà in campo per via della pausa nazionale. Avete dato un'occhiata al calendario di ottobre? Come vi dicevo ieri è tosto, è tostissimo. Avremo un altro mese in cui impegnarci veramente a fondo per cercare un pochettino di ritirare sul morale, quel morale che era arrivato all'apice dopo la rimonta di Lipsia e che ovviamente è stato inabissato dopo il rigore di Marine. Tra l'altro non so se ieri sera avete avuto il piacere di vedere Fiorentina-Milan, una partita che è molto divertente, ne sono divertito tanto a guardare a Fiorentina-Milan perché è stata una partita bella pimpante. Ci sono stati 758 rigori che sono stati tutti sbagliati o comunque parati dai portieri, vedetela come volete. È anche stata un po' una partita in cui i rigori calciati sono apparsi quantomeno rivedibili e c'è Marine si piazza sul dischetto e segna un rigore che sembra stato battuto da un mix di Cristiano Ronaldo e Messi Prime. Imprendibile, meraviglioso. Quindi ieri sera ammetto che guardando Fiorentina-Milan mi è venuto un po' di rabbia per via di questa cosa. Sicuramente Marine dal dischetto è un giocatore meraviglioso, non metto in dubbio questa cosa, però tre rigori sbagliati in Fiorentina-Milan e invece in Juventus-Cagliaro. Un 1-1 nato appunto da un doppio calcio di rigore. Ma andiamo ad analizzare la partita. Perché secondo me, a differenza di quella con l'Empoli, ne parlavo anche ieri, Tiago Motta ha fatto una buona preparazione della gara. Ha fatto anche una buona formazione. Io non ho nulla da dire sulla formazione in Salianza, mi piaceva tanto. Poi è ovvio che oggi Bangula non è Ildis. Questo è chiaro ed evidente a tutti. C'è stato un po' di turnover per far rifiatare alcuni giocatori che avevano giocato tanto. L'unica cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso è stata nella gestione dei cambi. Traduco. A fine primo tempo io avrei levato Turam, perché Ramonito aveva già dimostrato di non essere pienamente ingiornata e magari nella testa di Tiago Motta c'era davvero già questa sostituzione con l'ingresso di Fagioli per Turam. Poi con la botta al costato di Cobbeners può aver costretto Tiago Motta a optare per Fagioli come trequartista piuttosto che metterlo in mediana con Locatelli. Non ne ho idea. Non lo so. Come mi aspettavo Cabala a un certo punto per Savon Ammonito con Cambiaso spostato a destra, invece è entrato Danilo che non è stato nemmeno un brutto cambio. Col senno di poi è facile puntare il dito sull'ingresso di Douglas Lewis, ma non ci si poteva aspettare un patatrack del genere. Parliamoci chiaro, questa è una partita che finisce pari per una serie di episodi nel finale. Stop. Punto. E che Tiago Motta secondo me ha preparato bene e che avrebbe pure meritato di vincere. Quindi il voto è un 6, non è un voto alto, non è un'insufficienza, perché come questo Juventus-Cagliari 1-1 non ha assolutamente colpe nella gestione tecnica. Ripeto, ci sono alcune cose che possiamo parlare, formazione iniziale, cambi, eccetera, eccetera, ma sono tutte cose opinabili e soggettive. Di Gregorio, voto 6. Non ha parato il rigore. Che vi devo dire? Doveva parare il rigore. Questa è la valutazione che posso fare sul portiere della Juventus in una partita del genere. Gatti, 6 e mezzo, così come Calulu. Loro due non mi hanno fatto preoccupare particolarmente. È vero che il Cagliari ieri ha avuto delle ripartenze pericolose, ma poi sia Gatti che Calulu secondo me hanno fatto un'ottima partita in fase difensiva. Non ho assolutamente dubbi su di loro, tant'è che la Juventus in campionato in sette giornate ha subito un solo gol, l'ha subito su rigore, praticamente all'ultimo minuto di una gara, dominate lungo e largo con occasioni da gol e possesso palla. Peccato, non ho niente da dire a questi giocatori, così come non ho niente da dire a Savona. Secondo me ha fatto una bellissima partita ieri Savona, tant'è che a un certo punto è costretto pure a prendere un giallo molto intelligente, perché quella è una lettura molto furba di Savona. È una lettura quasi da veterano, perché la Juventus era messa male, è quello che vi dicevo anche ieri, senza bremer si balla un po' di più. La Juventus non era compatta, gruppo come prima, questo non ha creato particolari pericoli per il Cagliari, ma la continua, almeno per quanto mi riguarda, la sensazione è che potessero fare qualcosa. Quella sensazione lì io l'ho avuta. E secondo me nasce proprio dal fatto che la Juve non era messa bene in campo, secondo me Savona ha fatto una buona partita, giustamente sostituito poi da Tiago Motte in maniera intelligente, perché Luvumbu era fresco appena entrato, un cliente pericoloso per un giocatore ammonito che aveva già speso il fallo in maniera furba, quindi credo che sia stata giustissima la lettura del mister. Mi è piaciuto un po' di meno Cambiaso, che mi è sembrato il giocatore più assente, perché solitamente Cambiaso è quello in grado di dare il ritmo alla Juventus. Intendiamoci, non è stata una partita insufficiente di Cambiaso, tant'è che prende il 6. Però da Cambiaso io mi aspetto sempre qualcosa di più, perché so che è uno di quelli che può darmi quel qualcosa di più. Ha fatto una buona copertura nel finale in fase difensiva, ma per il resto secondo me è mancata quella spinta di Cambiaso, o meglio quel palleggio di Cambiaso che riesce a dare quando entra dentro il campo e va a regalare il ritmo alla Juventus. È veramente lui che detta i ritmi. Ieri questa cosa è un po' mancata. Cambiaso comunque sta giocando anche tante partite, è un altro di quelli che forse avrebbe bisogno di un po' di riposo. Questa sosta nazionale non ci voleva per niente. Locatelli, voto 6. Non mi è dispiaciuto, tant'è che mi sono meravigliato di vederlo sostituito insieme a Turam, che invece non mi è piaciuto. Quando un allenatore fa un doppio cambio e toglie tutti e due i centrocampisti però significa che non è per nulla soddisfatto di quello che è il rendimento. Siccome Locatelli è stato il giocatore migliore della mediana 2 composta dai titolari di Tiago Motta, Turam prende un giallo che si poteva siccome tranquillamente evitare, un intervento che non aveva senso di essere fatto in quel momento della partita, e poi si ritrova costretto a stare molto attento ad intervenire perché ovviamente un altro fallo un po' scomposto avrebbe potuto portare all'espulsione, tant'è che nel secondo tempo fa un intervento anche molto bello, siccome è in scivolata a centrocampo, però mi fa preoccupare. Non so se è stato limitato dall'ammonizione, probabilmente sì, perché è anche facile che un centrocampista quando è ammonito poi non riesca a dare tutto il suo meglio, però una partita in cui Turam non mi è sembrato per nulla pronto a giocare. Ieri mi è sembrato molto addormentato. È un giocatore sul quale ho fiducia, me lo aspettavo più pronto, devo essere brutalmente onesto perché quando è stato acquistato Turam sono andato un po' a vedermi quello che era il giocatore e quelle che erano state le prime prestazioni con la Juve in pre-season e quelle che erano state, anzi era stata la prima apparizione di Turam, quindi con il Como mi era piaciuto tanto, mi ero preoccupato per il suo infortunio. Non so se è qualcosa legato appunto al fatto che non è ancora entrato al 100% in condizione fisica o semplicemente ero andato a farmi un'idea sbagliata sul calciatore che rimane un buon calciatore, ma meno impattante di quanto avevo immaginato in questo momento. Mangula, voto 5. È un giocatore che era completamente scomparso dai radar e di questo mi dispiace. Attenzione, Mangula non è un fenomeno. Cioè il fatto che fosse stato così impattante nelle prime giornate di campionato era semplicemente un discorso legato probabilmente a quella che era la forma fisica del ragazzo straripante nei confronti dei suoi compagni e anche degli avversari. Però mi è dispiaciuto vederlo scomparso tutto in una volta, perché, ripeto, non sarà un fenomeno, ma è un giocatore che secondo me se entra nelle rotazioni, negli ultimi minuti per dare un po' di riposo ai giocatori che stanno giocando tante partite, può dirla sua, entrare in condizione e abituarsi a questi livelli. Buttato nella mischia così dal primo minuto titolare, dove è stato per me abbastanza inefficace, abbiamo visto un giocatore completamente fuori dal mondo Juve. È sembrato veramente un giocatore non all'altezza. Quindi mi è dispiaciuto un po' questa gestione di Mangula, che è stato un po' rispolverato per via dell'infortunio di Nico Gonzalez e ovviamente la voglia di far rifietare, riposare un po' Ildiz, un giocatore che si prende 5 in pagella, però mi dispiace che sia scomparso tutto in una volta. Per me c'è necessità di inserirlo all'interno delle rotazioni con un po' più di costanza. Con Seysau, vuoto 6 mezzo, nonostante l'espulsione. Con Seysau è stato, credo, il giocatore migliore della Juventus negli ultimi metri. Poi vedremo anche le valutazioni di Cobmeners e di Vlaovic. Io lo ripeto, in prima battuta in diretta mi sembrava che il giallo potesse essere giusto, ma rivedendolo mille volte, quello non è mai rigore e quello non è mai giallo. Quindi anche probabilmente un danno che la Juventus si porta a casa da questa partita, non solo per non aver giocato gli ultimi minuti in parità numerica, con un giocatore che è stato il più pimpante dal punto di vista proprio della qualità offensiva, ma anche lo stop che costringerà Con Seysau a saltare la prossima di campionato con la Lazio. Quindi mi dispiace tanto perché questo è un giocatore forte, che ha già fatto vedere di poter fare cose importanti, anche lo scatto con cui brucia il suo marcatore proprio in occasione del lancio lungo di Danilo, dove poi viene espulso, è indice di quanto questo ragazzo sia forte in forma e concentrato. Secondo me è l'esterno migliore della Juventus oggi in rossa, più di Nico Gonzalez, più di Bangula, più di Hildiz che in questa posizione ancora sta facendo un po' fatica, Con Seysau è il giocatore più pimpante della Juventus negli ultimi metri, ovviamente giocando sull'esterno. Cobb Maners voto 5, perché in realtà al primo tempo non mi era nemmeno dispiaciuto particolarmente, però deve fare quel qualcosa in più, perché è vero che sul palleggio, sulla qualità della gestione del pallone lontano dalla porta, io a Cobb Maners non posso dire assolutamente niente. Quando arriva lì intorno alla trequarti campo, però, non posso accettare che Cobb Maners sia questo, che calcia da fuori aria e la butta alta, che calcia in aria e becca al portiere, che sta continuando a essere molto impacciato sotto porta. Cioè, Cobb Maners è un calciatore che è stato pagato tanto, perché? Perché negli ultimi anni tra gol e assist aveva messo nel bottino, in saccoccia, tantissime reti. Ecco, ora, io posso capire ogni tanto la sfortuna, posso capire ogni tanto il palo, posso capire la parata del portiere, però Cobb Maners inizia ad essere a 6-7 partite con la maglia della Juventus e tutte le volte c'è una costante, e cioè che quando arriva lì gli manca sempre il centesimo per fare l'euro. Voglio lasciare da parte i discorsi precostruiti di eh, questa roba funziona solo a Bergamo, sono i centrocampisti, i giocatori che se prende dall'Atalanta fanno gol solo lì. Non è così, perché comunque Cobb Maners lì ci arriva e non è che se indossi la maglia dall'Atalanta è più facile fare gol piuttosto che quella della Juve, perché lì ci arriva. Sono convinto che gli serve a sbloccarsi, ieri aveva chiesto anche il pallone a Vlaovic per battere il rigore, Dusan ha chiesto di battere lui, l'ha battuto lui, poi l'ha botta al costato che l'ha costretta ad uscire, ma per ora Cobb Maners è ancora un giocatore, secondo me molto incompiuto con la maglia della Juventus. Diventa un caso? No, per me no, perché gli vedo fare delle cose importanti dentro il campo, ma gliele vedo fare sempre quando è lontano dalla porta. Deve iniziare a farle anche dentro l'area di rigore, perché per ora forse l'unica vera grande giocatore a Cobb Maners è quel passaggio filtrante a Vlaovic a Genova che va a firmare il 2-0. Cobb Maners deve essere tanto di più, perché pretendo tanto di più, non perché l'hai pagato 60 milioni, quello non me ne frega niente, lo pretendo semplicemente perché Cobb Maners è un calciatore forte e oggi non ha ancora collezionato un numero adeguato di partite per essere considerato un giocatore forte, ma soltanto un giocatore bravo, che c'è differenza. Vlaovic voto 5. Ho un po' fatto una ricerca prima di dare il voto a Vlaovic, perché io avevo in testa di dargli 5. Ho visto testate che gli hanno dato 5, 5, alcuni 5 e mezzo, alcuni 6, alcune del tour a 6 e mezzo. Per me è talmente tanto impattante l'errore di Vlaovic a porta vuota sul potenziale 2-0 della Juve, che in rigore ha battuto bene, dove ha intuito anche Scuffet, eccetera, eccetera, non mi interessa, il rigore ha battuto bene, ha fatto gol, però viene fagogitato. Non dico che questa roba vada ad annullare tutto quello che ha fatto Vlaovic di buono negli ultimi tempi, perché no, non è vero, credo che sia tipo 5 gol in 3 partite, una roba del genere, quindi non è possibile che questo errore vada ad annullare tutto quello, no. Però io non voglio che questo errore poi vada a pesare su Vlaovic a livello mentale a tal punto da farlo regredire nuovamente. Cioè questo è veramente il test più importante per Vlaovic, che si era ripreso mentalmente dopo quella sostituzione con Napoli, che secondo me gli aveva fatto bene a fine primo tempo per fargli mettere un po' le idee in chiaro. Infatti Genoa doppietta, Lipsa doppietta, era partito bene anche col Cagliari dove ha fatto gol sul rigore, però io non posso pretendere che Vlaovic, anzi non posso credere, io devo pretendere da Vlaovic qualcosa in più, non posso credere che lui possa farmi solo i gol difficili, non posso credere che lui vada ad esaltarsi solo quando la squadra è in difficoltà. Lui deve essere costante, forte, sempre. Se no questo passaggio in più che lo va a consacrare non arriverà mai. Perché Vlaovic oggi è un giocatore che secondo me ha tanto potenziale, tanti gol nelle gambe, ha segnato già tanti gol in Serie A, ma deve ancora fare quel passo che lo rende un calciatore continuo, credibile e soprattutto davvero decisivo. perché oggi Vlaovic è un ibrido tra queste due cose, è un'altalena Vlaovic, è una montagna russa Vlaovic, è sempre su e giù, è il grafico di seno-coseno, non è possibile che tu vada da meno uno a uno passando per lo zero in continuazione, tu devi stabilizzarti sul range ed essere sempre impattante e decisivo. Poi a Vlaovic ci stiamo chiedendo anche gli straordinari, perché non c'è alternativa. Oggi la lunghezza della rosa di lui diventa un tema e sicuramente ne parleremo in questa pausa nazionale. Però quel gol a porta vuota sul tuo piede forte non lo devi fare quasi sempre, lo devi fare dieci volte su dieci, perché se il numero nove è titolare della Juventus, delle due, puoi sbagliare quel gol da fuoriare con l'Ipsia, che è un capolavoro, un gioiello, a porta vuota da due metri sul tuo piede forte, se il numero nove è la Juventus, quello non esiste nel mondo che tu lo possa sbagliare. Non esiste. Fagioli, voto 6 e mezzo. Mi è piaciuto. Da subentrato è stato uno di quelli migliori, anzi probabilmente il migliore di quelli che è entrato. Poi è entrato, ha fatto un tempo, quindi è entrato a fine primo tempo, dà un pallone delizioso a Vlaovic, che purtroppo tende un pochettino ad andare troppo fuori verso sinistra, poi Vlaovic tira al volo, mezzo collo, mezzo esterno, che meglio di così non poteva fare, purtroppo quella palla non entra, però Fagioli sia qualche metro più avanti, poi qualche metro più indietro, mi è piaciuto. Un giocatore che sta bene in questo momento, sta veramente bene. Infatti, ripeto, io nella mia ignoranza avrei inserito Fagioli al posto di Turam e su Cobb Mainers forse, avrei chiesto a Ildiz di fare uno sforzo in più e di riposarsi poi successivamente, perché secondo me la Juventus aveva necessità di qualità in più in quel momento per consolidare il vantaggio e riuscire a chiudere la partita. Però, ripeto, col seno di poi siamo bravi tutti e soprattutto seduti a casa sul divano siamo bravi tutti. McKennie, voto 6, entrato, ha messo il suo solito all'interno della partita, un paio di recuperi importanti, su McKennie non ho veramente nulla da dire. Qua invece sì. Qua invece sì. Voglio essere onesto con voi, oggi sono molto preoccupato per questo giocatore qua, perché errare umano perseverare diabolico. Entri all'Ipsia con la squadra in dieci, sei in barriera, magari non sei abituato, allarghi un po' il braccio, può succedere che tu vada a causare il calcio di rigore. Non ho assolutamente detto niente ad Douglas Lewis per quel calcio di rigore e per la brutta gestione del pallone in occasione di tanti momenti anche con l'Ipsia. Lo sapete, nelle pagelle di l'Ipsia io ho voluto dare un voto altissimo a tutti perché per me sono stati tutti eroi, compreso Douglas Lewis, che non mi era piaciuto. Qualcuno di voi ha storto il naso nei commenti, giustamente, ma io lì ho voluto fare una scelta di cuore, premiare tutti i ragazzi che hanno portato a casa quell'impresa. Col Cagliari non ti posso perdonare, perché quello è un intervento che non ha senso. Io ho letto anche a persone che dicono quello non è rigore. Sono tutte riflessioni soggettive, per me quello è rigore sempre. Può non essere rigore? Boh, sì, può essere. Se lo volete leggere così, d'accordo. Ma la domanda che vi faccio è e allora perché comunque intervenire in quella maniera scomposta in aria col pallone è già andato? Cioè, non metterci il dubbio della discussione rigore o non rigore. Quella gamba non deve allungarsi, il pallone è già via, perché l'allunghi? Ah che pro? Ma per quale motivo? Ripeto, errare umano, presso errare diabolico, soprattutto in un contesto del genere, in un momento del genere. Oggi esagero, ma in questo momento qui, 7 ottobre 2024, alle ore 11 di mattina, quando sto registrando questo video, Douglas Lewis è un giocatore che può partire titolare mai e subentrare, sì, ma solo quando lui va in vantaggio di almeno due gol. Perché se no è un danno. non significa che questa sarà la costante che rimarrà per tutta la stagione così. In questo momento è così. Douglas Lewis non può entrare se la Juventus non ha almeno due gol di vantaggio e può entrare a consolidarlo. Perché comunque quando ha la palla lui difficilmente la perde. Però questo è un giocatore che entra, gioca per fare tunnel agli avversari, per fare il no-look e per esibirsi. Cioè, io capisco che uno possa avere un certo tipo di approccio alla vita perché i brasiliani sono una cultura differente. Non sono qui a dire no, però quando entri in campo se la partita è in bilico, se il risultato non è in cassaforte, quelle robe lì, tu non è che non le puoi fare, non le devi fare. E vi dico di più, se sono Tiago Motta in questo momento qui, fino a che questo qui non l'ha capito, questo non vede il campo. Perché Douglas Lewis, per me, e poi magari mi sbaglierò, ma per me è un calciatore forte. Forte. Con delle qualità tecniche elevatissime. Davvero di alto livello. Tecnicamente credo che sia uno dei giocatori migliori della Juventus. Ma questo non significa che tu sia un campione per questo. Un giocatore forte che non ha tutto il pacchetto della consapevolezza e della gestione e della lotta che serve ad arrivare al risultato finale. La calciatore forte fa due passi indietro, diventa un calciatore mediocre. Quindi, domanda, video che avevo fatto qualche tempo fa, perché oggi non gioca Douglas Lewis? Risposta, perché non ha ancora il pacchetto completo ad essere un calciatore forte. C'ha solo i mezzi tecnici del calciatore forte, gli manca tutto il resto. E allora, non è che fa bene Tiago Motta a tenerlo in panchina, fa benissimo, anzi, delle due diventa una piccola critica nei confronti di Tiago Motta che lo sta facendo giocare addirittura più del dovuto. Questo giocatore, in questo momento, può entrare solo se la Juve ha ampiamente dilagato sul vantaggio e sul risultato. E questo diventa un problema perché la Juventus in serie ha segnato soltanto dieci gol in sette partite e sono pochissimi. Sono stato molto severo con Douglas Lewis ma credo che in questo momento meriti la severità perché non possiamo continuare a far finta di niente che vada tutto bene, il tempo va dato, non è un giudizio definitivo, non è un massacrare Douglas Lewis adesso io sono contro Douglas Lewis, non è questo. però è necessario essere severi nell'analizzare la situazione odierna che è una situazione in cui Douglas Lewis non si è integrato sicuramente eccetera eccetera ma non merita oggi di andare in campo. Oggi non lo merita. Credo che nelle gerarchie di Tiago Motta oggi, personalmente, in questo istante debba essere l'ultimo perché tutti gli altri che entrano in campo Locatelli, Turam, Fagioli, McKennie, Cobb Mainers che stanno andando i centrocampisti tutti questi mettono troppo di più in gioco rispetto ad Douglas Lewis. Troppo di più. Quando ad Douglas Lewis vedrò fare le stesse cose dal punto di vista proprio del sacrificio dentro il campo allora sarò ben lieto di dire bentornato ad essere un calciatore che può giocare nella Juventus che può essere deciso nella Juventus e io sono davvero convinto che abbia dei mezzi tecnici per essere un titolare di quelli che senza di lui non si può giocare perché il pallone lo sa trattare la visione ce l'ha eccetera eccetera manca tutto il resto però questa cosa bisogna metterla dentro nella svelta che la Juventus non è un parco giochi la Juventus è una squadra che deve cercare di competere essere sempre decisiva ai massimi livelli perché tra l'errore di Vlaovic a porta vuota e l'errore di Douglas Lewis sul rigore io non so sinceramente che cosa sia peggio sono due errori gravissimi che costano i tre punti alla Juventus che avrebbe meritato la vittoria ma se non chiudi le gare allora la vittoria poi non te la vai a meritare a maggior ragione se fai due interventi che sono praticamente due autogol del genere Danilo Voto 6 entrato non ho niente da dire così come Ildis che alla fine è stato costretto ad alzarsi mettersi la maglia a scaldarsi a entrare in campo due o tre sgasate che non sono risultate decisive signori questa è la lettura queste sono le pagelle fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti ieri ho pubblicato ve lo lascio questo prendere scheda è anche un video in cui vi racconto come secondo me la Juventus abbia iniziato a ballare decisamente di più senza Gleason Bremer e in cui andiamo anche ad analizzare le parole di Gatti di Tiago Motta e dove vi dico che sì il pareggio di ieri mi ha fatto molto molto arrabbiare ciao a tutti e forza Juve